Padova, l'estate continua all'insegna della stabilità grazie alla presenza forte ancora dell'anticiclone anche se nelle ultime ore proprio quest'anticiclone ha mostrato qualche temporaneo cenno di debolezza e ha approfittato subito qualche impulso di aria fredda dalle Alpi, più fredda naturalmente, relativamente più fredda che ha dato vita dei temporali. Ecco la situazione rimarrà questa quindi su Padova, sul Padovano per sabato e per domenica c'è l'imprevalenza sereno. Durante il pomeriggio, per sabato ma soprattutto per domenica potremmo avere qualche attività di instabilità, qualche temporale per intendersi che sarà più probabile a ridosso dei rilievi, sulle colline, sui rilievi, ma nulla di più. Poi i giorni proseguiranno la prossima settimana tempo stabile in generale però con un po' di instabilità che sarà un po' più frequente e fatto importante le temperature che pur si mantengono alte, poi nella prossima settimana rientrano in quelle che sono i valori normali, quindi massimi intorno ai 30 gradi. Ma per domani e dopodomani i valori massimi ancora 33, 34, anche 35 gradi, valori minimi tra i 22 e i 24 gradi. Altriatico praticamente calmo, poco mosso, un po' di prezza durante le coste, durante il pomeriggio. È tutto.